Oh Vieni su Sì da fuori prima Ma che troviata c'è Come ti vuoi ti? Come ti vuoi? Sì Ma sono notato il cavo Che hai dovuto montare su te? Allora monti su me e filmi tu Ah io filmo da su Dopo anche te vuoi fare un giro Ho visto io o paro? No, non sai ho visto Come no? No Guarda adesso la ruota Grazie Gino faccio un violetto Ma la mia cosa? Sì con la mia bici Ma stai filmando cosa? Cosa è il trattore? Viene viene Vedremo in ultima Aspetta un attimo Grazie 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 Sì, è bello, è spazzicato. Colino mi sembra che è arrivato. Sabato è arrivato, Coloni. Guarda, guarda. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda, guarda. Guarda. Sì, perché è anche una moneta. Non è mica una bestia di zona. Non ce ne accoresse se ne vado. Non ce ne accoresse. Grazie. Beh, beh, un narratore così mai visto. Hai voglia di sentire cosa che si conta in cabina? Che è accaduto? Non c'è neanche acqua, immagino il paio manco è enorme e con tutti i topi si passa, non so, bisogna andare in roba. Sì, ma è una piscina, perché... ...se sdrai un po' lì. Dai, pulastro! Dai, pulastro! Ma dopo dov'è che lo mettete? Facciamo un cd che lo portiamo a casa tua. Lo portare? Così lo guardi. La cosa di Nicole, perché io non ho il video che va, perché mia sorella lo metterà qua sopra. Ma dopo devi fare ancora? Eh, tutto il campo. E basta. E' poco tutto stupendo. Forse stasera vanno ancora avanti. Stava l'acqua da qua. L'altra sera l'abbiamo fatto qui alle 2. Adesso monto io. ... 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 ora, dopo qualche volta e si abbiamo tutto ah, diaspuola, di lui, la bucana, il fiatà però io non ero, e se voglio registrare grazie Grazie a tutti. 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 Vai giù. Grazie a tutti.